Ciao, sono Andrea, benvenuti alla seconda puntata del podcast Symposium in cui parliamo di sicurezza informatica e cerchiamo di farlo con i protagonisti di questo settore. Insieme a me c'è Omar. Ciao Omar. Ciao a tutti. Oggi siamo in una location diversa, siamo a Roma perché partecipiamo a una secconf che si chiama Romec che avviene ogni anno. Siamo ospiti degli amici di 101% e siamo qui per due motivi. Uno è partecipare alla secconf come ogni anno, ma il secondo motivo è che siamo qui per sfruttare l'occasione di parlare con il nostro ospite che non vive in Italia e qui per partecipare anche lui alla conferenza ed era l'unica occasione che avevamo per poterci chiacchierare. Quindi vando alle ciance, iniziamo e ve lo presentiamo. Sigla. Signore e signori, Gerardo Di Giacomo. Ciao Gerardo, grazie per essere qui. Ciao, grazie per l'invito. Allora, io ti chiederei di presentarti e raccontarci un attimo cosa fai adesso, chi sei e poi partiamo bomba con le domande scomode. Va bene. Ovviamente, ciao a tutti, sono Gerardo, il mio ruolo è di Information Security Lead, quindi mi occupo di tutte le faccende relative alla sicurezza informatica e anche la sicurezza fisica. Ah, ok. Anche sicurezza fisica, ok. Beh, comunque c'è da dire una cosa. Noi abbiamo insistito nell'avere Gerardo qui oggi. Per quale motivo abbiamo insistito tanto? Beh, tolto essere un amico, il motivo principale è che in Italia se fai cyber da tanti anni, come lo stiamo facendo noi, che ormai sono quasi dieci, è impossibile che tu non conosca Gerardo. Non conosca Gerardo, perché sei uno dei veterani di questo mercato qui, uno dei primi. Noi ce ne abbiamo seguito abbastanza la tua storia, da quando eri in Telecom fino a tutte le società in cui hai lavorato. Tu sei uno di quelli che praticamente è un cervello immigrato, essendo che hai passato da Microsoft a Stripe, a altri multinazionali monoprodotto della Silicon Valley. Come è successo? Cioè, come mai te ne sei andato dall'Italia e com'era quando sei partito? Sì, in effetti il motivo principale per cui ho deciso di lasciare l'Italia è perché, principalmente per le opportunità, per il mercato del lavoro che c'era in Italia. Di che anni parliamo, scusa? Sì, allora, mi sono trasferito nel 2011, dove ho lavorato in Microsoft, mi sono trasferito a Redmond, a Seattle, per lavorare in Microsoft. Venivo da circa 7-8 anni di consulenza. Dopo, diciamo, tutti questi anni di consulenza mi ero un po' rotto le scatole di fare il consulente. Volevo cercare altro, volevo entrare in un'azienda dove magari si faceva un prodotto informatico, diciamo software, e dove la sicurezza fosse approcciata internamente. Quindi volevo far parte di un team, perché ovviamente quando sei un consulente ti assumono per fare il lavoro di consulente di sicurezza, è quello il tuo ruolo. Quando, diciamo, passi dall'altra parte della barricata, la sicurezza diventa un di cui, perché lavori con tante altre persone che non fanno sicurezza e quindi devi pensare, capire qual è la soluzione migliore per portare all'obiettivo di sicurezza, però in un contesto che, come ho detto, la sicurezza è un di cui e non... Senza anche essere un ostacolo, magari. Esattamente, principalmente direi. Quella è la cosa, diciamo, difficile, perché trovare la soluzione sicura è facile, trovare la soluzione sicura considerando mille altre requirements che possono essere legali, di privacy, di agevolazione per il sviluppatore per fare il loro lavoro in maniera efficiente, perché la sicurezza alla fine è un compromesso tra l'usabilità e l'essere sicuri. Quindi, a me piace, diciamo, vedere le cose un po' più a tutto tondo, al posto di andare. Infatti, questa è una cosa che poi volevo chiederti dopo, quanto deve essere estesa il know-how per fare quello che fai tu. Però, prima, volevo chiederti, dato che stiamo parlando della tua esperienza lì, tu ti sei... io ho fatto i compiti, tu ti sei spostato negli Stati Uniti a 29 anni, giusto? Sì, circa, sì. Sì, nel panico o... Abbastanza, abbastanza nel panico. Sei umano allora? Sì, 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 molto, troppo. Sì, ovviamente sì, perché ancora mi ricordo il primo giorno, in gennaio 2011, c'era il New Employee Orientation, NIO, e c'era tutta la gente che è entrata in Microsoft in quel momento, che erano centinaia di persone, perché giustamente Microsoft è un'azienda di 100.000 e passa, quindi ogni settimana, il lunedì, assumono tot centinaia, o anche migliaia, a livello globale di persone. Quindi mi ricordo che, andando lì, c'era la domanda, chi ha viaggiato di più? E io ero tra... non ero il più, diciamo, quello che ha viaggiato di più, ma c'ero quasi, perché tra scale e cose, ero sulle 20 ore, c'era qualcuno dall'India che ci aveva messo 24 e ha detto, ah, mi hai battuto. Però, insomma, quello era il mio obiettivo da visita, cioè, arrivavo lì comunque... Quello lì adesso è diventato il nuovo amministratore delegato. Può essere, potrebbe essere lui. Però sì, comunque è stata la mia esperienza, io non ero mai stato negli Stati Uniti prima, oltre ai due episodi dove ho fatto i colloqui in sede, però non avevo esperienza, diciamo, di vivere di vita all'estero, in Europa, sicuramente non in America. E quindi c'è stato un impatto non solo lavorativo, ma culturale, ovviamente, è stato... non è banale. Ok. Sì. E com'è stato il colloquio? I colloqui. I colloqui. Sì, perché in realtà ho fatto, quando sono entrato in Microsoft, ho fatto colloqui per due posizioni. Una era come pentester nel team che all'epoca si chiamava BPOS, quindi era Business... non mi ricordo. E poi è diventato Office 365, come lo conosciamo tutti. Quindi quella era la prima opzione. La seconda opzione era nel team che fa MSRC, Microsoft Security Response Center, che è il team che praticamente gestisce tutto oggi, bug bounty, incidenti, cose così. Quindi io ho detto prima, non volevo fare più consulenti, ho detto vado a fare il pentester, una cosa che ho già fatto, o vado a fare una cosa che non so nemmeno che... Molto lontana dalla mia... avevo le capacità, diciamo, tecniche per farle, però comunque non è che avevo fatto cose simili prima. Quindi ho detto quella cosa là. Io in genere accetto sempre lavori che non ho mai fatto e che non so come fare perché è quello che mi stimola. E quindi ho preso quella decisione là, alla fine è stata la decisione giusta o no, chi lo sa, io non mi pongo questi problemi. Però sì, diciamo, è stato sicuramente formativo perché cose che passano lì non passano. Secondo me, forse oggi, è Apple, Google, però all'epoca Microsoft era il... cioè passava tutto quello che c'era a livello di security, come a livello di threat globale, passava là. E quel team era proprio specializzato in queste cose qua. Quindi praticamente la maggior parte del mio tempo in Microsoft è stato nell'analizzare e capire questi exploit, incidenti, qualsiasi cosa che succedeva all'interno di Microsoft e lavorare poi con i sviluppatori a creare mitigation a lungo termine nel sistema operativo, fuori. E quindi ho lavorato in tanti progetti in cui pensando, come ho detto prima, come far capire, come raggiungere l'obiettivo sicurezza in un ambito globale con tanti requisiti, sicuramente quella è stata una delle esperienze più importanti a livello lavorativo per me. Ma quindi possiamo dire che per fare un certo tipo di lavoro nella sicurezza non basta essere esperti di sicurezza, secondo te? Cioè ci vuole una visione un po' più ampia che comprenda anche magari logiche di business? Direi che secondo me dipende perché la cyber, la sicurezza informatica ha tanti domini, ci sono tante cose che si può fare, giusto? Non è che può fare tutto. Secondo me dipende un po' dall'obiettivo, cioè quello che vuoi fare tu e da un certo punto di vista sfruttare anche le tue strengths, a parte a livello professionale e cognitivo, ma anche a livello personale, emotivo, la visione, perché le aziende americane soprattutto puntano molto alla diversità, cioè avere tante opinioni da tante persone che vengono da mondi diversi per poi trovare la soluzione ideale per quel problema. Quindi per come approccio, diciamo, ho detto prima che non accetto un lavoro che se l'ho già fatto, per me quello è uno stimolante perché io sono motivato dall'imparare, voglio capire le cose, come funzionano. C'è chi magari però è più verticale, cioè magari c'è un esperto che sa di sicurezza hardware, per esempio, e non interessa a livello business, quindi si focalizzava verticale sull'hardware e fa quello. A me essere super verticale su un argomento singolo interessa, diciamo, meno, e quindi cerco sempre di fare cose che mi insegnano qualcosa che sia a livello di sicurezza informatica che no. E quindi sì, è il mio, la filosofia è un po'. Ma una cosa esclude l'altra secondo te? Cioè verticalizzarsi esclude... Sì, perché in effetti... Perché è troppo complicato, perché... Beh, secondo me è un insieme di cose. Ovviamente il tempo. Cioè se ti vuoi verticalizzare in qualcosa ci devi spendere la vita. Non ci sono scorciatoie, non ci sono altri metodi. Quindi tempo, ovviamente, se vuoi essere verticale, poi non hai tempo di essere anche orizzontale. Prima di saltare poi sulle altre fasi della tua vita, perché tendenzialmente possiamo anche affrontare con... Saltando io nei passaggi dell'azienda in cui sei stato, anche un po' l'evoluzione della cyber e anche dell'IT quasi, cioè fino ad arrivare poi al Web3, ma ci arriviamo in fondo. Fermandoci un attimino su Microsoft, una domanda proprio facile, facile. Beh, tu sei entrato in Microsoft undici anni fa. Nell'arco di questi anni Microsoft il dominio non è che sia abbassato, è solo cresciuto. Fino ad arrivare adesso a diventare, anche dal punto di vista della sicurezza, uno dei player più pesanti. Ce lo vediamo sempre di più. Nel senso, se prima era soltanto personal computer e soluzioni per il lavoro, adesso Microsoft è il suo obiettivo a prendere tutto. Già soltanto pensando alle implicazioni dell'intelligenza artificiale, con SAP, cioè qualsiasi cosa abbia a che fare con il mondo business, l'obiettivo di Microsoft è di prendersi. Che ci sta, nel senso è, ha le possibilità di poterlo fare. Da quando tu sei entrato, ma ad oggi anche, che immagino comunque tu, stando anche vicino di casa di Microsoft, tutto il resto e parlando con gli altri esperti, come la vedi l'approccio che ha Microsoft rispetto alla sicurezza? Queste sue veleità di diventare un unicum, nella quale anche l'aspetto di sicurezza te lo gestisce totalmente in toto lei, fino ad arrivare al fatto quasi dell'annullamento degli altri provider per Microsoft. Cioè, in un mondo ideale per Microsoft, a un certo punto tu, con lo stack i 5, i 7, quello che è, tutto è Microsoft. Reputi che sia, che è un obiettivo che possono raggiungere. Perché a me, io reputo di sì, però quando parlo con colleghi, tutti quanti mi dicono, eh sì, vabbè, è catastrofista, e poi mi dicono, e noi che facciamo? E facciamo, lo so, per cosa ci inventeremo? Basta pensare al passato, basta guardare, nemmeno pensare, basta guardare al passato, anche dentro Microsoft. Pensiamo a dieci anni fa, Microsoft cosa faceva? Non c'era Azure, o forse se era in qualcuno che ci pensava, però aveva Windows, che aveva il 90% plus del mercato. All'epoca quando sono entrato io c'era Internet Explorer, che aveva, non mi ricordo la percentuale, però all'epoca, nel 2010-2011, era il browser. Poi il Chrome è arrivato, però insomma, lato server, Windows NT, Windows 2000, a partire 2003, c'era tutte quelle cose del 2008, cioè ce l'avevano tutti. Quindi Microsoft c'era già, là, cioè Microsoft aveva già tutto dieci anni fa. Poi con l'avvento di Amazon, di Google, con l'ingrandimento e l'espansione di altre aziende che di dimensioni simili, Microsoft in realtà, secondo me, ha perso un po' quella pill, quella mentalità prendi tu, ci prova. Però secondo me non è più forte come lo era. Forse a livello di copertura dello stack tecnologico, forse, anzi direi, sicuramente più forte perché ha aggiunto Azure, ha aggiunto tanti altri prodotti, il cloud, modelli di business diversi, quindi ovviamente si è evoluta. Però secondo me il mercato oggi è molto più aperto rispetto al mercato del 2010-2011 e prima. Nel 2010 Linux non esisteva, cioè esisteva, ma a livello di business non è che c'erano milioni di stanze AWS con Linux installato, no. Era tutto on-prem, era praticamente tutto Microsoft. Magari qualche Unix, ma non Linux sicuramente. Oggi Linux è ovunque. Non c'era Android. Ah beh, certo. Quindi tu dici che il rischio che in un futuro tutte le aziende siano su Azure e tutto quanto sia gestito da Microsoft non sussiste, secondo te? Non al 100%? No, non penso, perché comunque, allora, il vantaggio di Microsoft è comunque, secondo me, è la suite di ufficio, cioè Office e Microsoft. Beh, gli sono sempre stati padroni. Esatto. Però adesso anche là c'è Google che entra con Workspace, che anche là Microsoft... Voglielo dire a Omar che è arrabbiatissimo con la suite di Google. Sì, sì, sì. Non lo diciamo a Google. Sì, in Microsoft. Però sì, secondo me Microsoft c'è anche da dire che il mercato è molto più grande, il mercato tecnologico. Quindi c'è più, la torta è più grande, si può tagliare in più fette. Microsoft magari non ha il 90% della fetta, però anche se ne ha il 50% in numeri assoluti è sicuramente più grande del 90% che aveva prima. E quindi, secondo me, è quello il fulcro del discorso e dove Microsoft, come dici, vuole prendere tutto, perché più Microsoft si allarga a livello di offering, più riesce a tagliare fette di quel mercato. Poi ovviamente la strategia è sempre la stessa. Entri con un prodotto e poi da là ti espandi su altri prodotti. La suite di ufficio, ovviamente, è il bietto da visita numero uno di Microsoft. Tu entri con Office e poi cominci ad entrare con Azure, poi cominci ad entrare con Windows, magari che non usi Windows ancora. Però di cibo ce n'è, diciamo. Chiaro, 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 chiaro. Ma c'è una cosa che mi incuriosisce sul fatto del lavoro negli Stati Uniti ed è un fenomeno che abbiamo visto negli ultimi tempi, cioè quello dei diritti del lavoro, del lavoratore, ma soprattutto nello specifico i classici che abbiamo visto licenziamenti di massa via mail, cose che a noi italiani fanno storcere un po' il naso e ci sembra un po' che le danno un po' i diritti del lavoratore. È così? È così frequente? E secondo te in Italia siamo più tutelati rispetto agli Stati Uniti? Allora, ti rispondo a un po' di domande. È così? Sì, assolutamente. È così frequente? No. È successo nell'ultimo anno, due, perché Covid, Covid, sai, il mercato del lavoro è stato, l'economia mondiale globale, è stata impattata da questo evento e quindi negli ultimi, l'ultimo anno, un paio d'anni, tante aziende ovviamente hanno perso business e hanno dovuto ricorrere ai ripari, tra virgolette, perché uno dice, ma che si fa, miliardi di miliardi, monia, le licenze a mille che cambia. Però ovviamente è tutta una questione di business. In America quello che conta è crescere. Adesso se cresci da 100 a 101 è una crescita, ma se sei già a 101 per arrivare a 102 e non ce la fai, devi tornare a 90 per poi tornare a 101. L'importante è che cresci. Poi da dove parti non conta. Ah, curioso. Quindi secondo me, insomma, quello che si dice, quello che, di come si parla di queste cose qua, è così. Sì, è per quello che abbiamo visto tanti licenziamenti, perché le aziende erano cresciute in maniera spropositata, non c'era più crescita, le previsioni di crescita erano minime o negative, in realtà c'è stato un crollo abbastanza significativo dei mercati ovunque, e quindi le aziende hanno dovuto tagliare per poi cominciare a ricrescere. E quindi ovviamente il mercato americano è stato impattato principalmente perché la bolla del Covid è arrivata principalmente nel mondo software, cloud, zoom, tutte le piattaforme di comunicazione remote che durante il Covid hanno ovviamente spopolato, col ritorno agli uffici il Covid è un po' meno impattante. Che se c'è una cosa buona del Covid ha portato lo smart working in Italia praticamente che era impensabile. Ma anche in America, si parla di smart working, ma anche in America non è che c'era prima tutto sto, magari c'era la possibilità di lavorare uno o due giorni a settimana da casa, ma non era la norma, assolutamente. Rispetto alla tutela, tu parla di tutela del lavoratore, sicuramente c'è molta più tutela del lavoratore, ma in genere dei diritti personali in Italia, in Europa, rispetto all'America che è molto più, non dico orientata al business, ma diciamo che è molto meno regolata sotto qualsiasi punto di vista, sia a livello di vista del lavoro, ma anche, pensa ad un esempio molto stupido, qua abbiamo DOC, DOC-G, DOP, IGP, là non c'è nulla, cioè io posso chiamare mozzarella di bufala campana, qualcosa che vendo in California, che magari viene dalla California, perché non c'è un organo, e quindi secondo me è quella la cosa, l'America c'è molta meno regolamentazione, che ovviamente è una spada a doppio taglio, perché da un certo punto di vista, diciamo a livello personale, le persone sono meno tutelate, non c'è vacanze, non c'è un contratto nazionale in America, quindi tu puoi essere assunto e avere zero giorni di ferie, e va bene così, maternità, paternità, non c'è niente di diritto. Poi l'azienda che te lo dà come benefit, però non c'è niente di tutto ciò, non ci si aspetta vacanze, non ci si aspetta nulla, e quindi questo ovviamente comporta, diciamo, la conseguenza di tutto ciò, è che le aziende possono fare un po' quello che vogliono, ma anche le persone, cioè se per esempio voglio quittare oggi, io non devo nemmeno le fasi, anche io posso mandare una mail al mio capo e dire domani non mi presenti, grazie, domani non ci vediamo più. E va bene così, cioè io mica mi vengo denunciato, in genere si danno le due settimane di preavviso per Tling Nice, ma non perché si deve. Qua invece per cambiare lavoro devi avere un preavviso di tre mesi, se poi dipende da quanto hai lavorato in azienda. Poi prendi una domanda al volo, e secondo te reputi che questo qua per noi qua in Europa, nell'ambito tecnologico sia un limite nella competizione? Ah, bella domanda. Sì, guarda, secondo me da, non dovrei, cioè non lo so se è giusto, però sicuramente sì, perché le regolamentazioni sono quelle che poi alla fine, non dico bloccano, ma comunque interferiscono sul progetto di sviluppo tecnologico, che uno può dire va bene, non va bene, la privacy, regoliamo prima di produrre, produciamo prima di regolare, queste sono scuole di pensiero che ovviamente ognuno ha le sue idee, però sicuramente l'America, gli Stati Uniti, non l'America, gli Stati Uniti hanno molta più libertà di operare, cioè se io voglio cominciare a fare una cosa oggi che magari non è regolata, qua devo chiudere il permesso, in America la faccio. Poi quando qualcuno viene a bussare, mi pongo il problema di come rispettare la regolamentazione. GDPR è stata una cosa, diciamo, molto un esempio. Che poi in realtà c'è nel senso della traduzione di quello che ad oggi è la configurazione del mercato al punto di vista del software e dell'hardware, cioè America produce software, l'ASE produce hardware, noi siamo i consumatori in Europa, quindi tendenzialmente non c'è quella logica lì, ed è il motivo per cui noi non riusciamo neanche a switchare, ad avere così tanti unicorni come ne hanno in America, così via, perché non c'è la logica del... cioè noi non andiamo per il mercato americano, gli americani fanno un prodotto e si pigliano il mercato americano e il mercato europeo, asiatico, noi invece no, noi se facciamo un prodotto, cioè nel senso la scorsa volta abbiamo intervistato Giovanni Merlos, però Satispay è una società incredibile, però l'hanno fatta per prendersi il mercato italiano, e al massimo ci si può prendere il sud dell'Europa e così via, ma non riusciamo ad avere progetti che abbiano velità internazionali, perché abbiamo delle sovrastrutture che sono incredibilmente più pesanti, dovute al fatto che qua c'è la tutela del consumatore, perché in primis siamo consumatori di tecnologie, più che partecipi a questo, che in realtà poi fa troppo ridere, nel senso che qua in Italia, cioè tra il primo personal computer, cioè tra un po' è stato fatto di Ivrea e potevamo essere tranquillamente la Silicon Valley, se non fosse per il fatto che Adriano Olivetti non ha avuto l'appoggio che doveva avere, quindi è anche dovuto a quello, non è nel nostro DNA al momento, è una roba che comunque sicuramente è da cambiare, perché altrimenti fa sempre sì che noi siamo semplicemente fruitori, è bello essere fruitori, ma a un certo punto bisogna anche essere partecipi, non soltanto fruitori, tanto è che tu sei stato poi in un'altra azienda in cui di fruitori ne ha presi un casino qua in Europa, che tutto il mondo, adesso chiamiamolo meta, però tutto il mondo Facebook, e lì tu, infatti noi ci siamo conosciuti, forse che tu eri in Facebook, forse non eri già andato via da Microsoft, e mi ricordo che tu facessi un cambio, eri fatto un passaggio a Libra, se non sbaglio, quindi potessi raccontarci il passaggio a Libra. Sì, Libra è stato un progetto, ambizioso, sicuramente ambizioso, il passaggio, io all'epoca lavoravo per WhatsApp, diciamo era il loro security, la loro persona di security, e anche qui avrei 8.000 domande, ma andiamo avanti. Sono in tre puntate, Sì, può darsi. Libra era nato internamente in Facebook meta nel 2018, durante l'anno, e ovviamente era segreto, non si sapeva cos'era, diciamo una start-up dentro meta, e quindi all'epoca ricordo che il mio capo, il mio capo del mio capo del team di security di meta, era stata ingaggiata, comunque le avevano chiesto di spostarsi in Libra, nel progetto blockchain di meta, per creare il team di security interno, perché volevano creare questo sistema di pagamenti mondiali, e ovviamente la security doveva essere top. Le avevano chiesto perché era una donna? Sì, era, sì, è, scusa, sì, in realtà oggi è VP di Microsoft Security, quindi ha fatto pure, lei ha fatto... No, dico wow perché in Italia questa cosa anche qua, vabbè, culturalmente abbiamo qualche... Però, vabbè, andiamo avanti. Anche là, eh. Sì, la mia capa, la capa della mia capa, avevano chiesto di passare in Libra, e io mi ero incuriosito, facciamo un sistema di pagamento globale, blockchain, quindi ho cominciato a interessarmi, ho chiesto a lei, guarda sta creando il team di sicurezza, se mi serve qualcuno come me, mi farebbe piacere perché mi sembra una cosa interessante. e è successo. Quindi in quell'anno, lei mi sembra che è passata nel team a settembre, io ho cominciato a novembre in quel team, e niente, poi abbiamo rilasciato la prima versione del... Siamo diventati pubblici al giugno del 2019, dove c'è stata poi tutta la reazione, Zuckerberg al Senato a testimoniare, noi a guardare in ufficio, parlano di noi. E quindi sì, è stato un progetto che è nato con ambizioni tremende, ambizioni inverosimili, se uno ci pensa, questo è un domanda. Devo dire che eravamo appena dopo Cambridge Analytica, quindi Facebook si stava, si sta ancora risanando da quell'evento, e quindi c'era ovviamente lo scetticismo di lanciare un progetto incentrato sulla sicurezza, prima perché quando si parla di soldi, non puoi scegliere, giusto? Perché nessuno vuole perdere i soldi. E quindi c'era dello scetticismo anche internamente per dire ok, facciamo questa piattaforma gigante, però arriviamo, abbiamo l'ombra di Facebook, tutti questi incidenti di privacy che ha avuto durante gli anni, come facciamo? E quindi c'era proprio il mantra di essere indipendenti. Noi siamo Libra, che poi è diventato DM per problemi, non so se erano copyright legali, comunque insomma c'è stato un rename. Un classico di Facebook. Un classico di... Un classico di Facebook. Sì. E quindi sì, la difficoltà sicuramente c'è stata perché c'era l'ombra di Facebook, poi ovviamente il progetto era ambizioso, voleva essere lanciato a livello globale immediatamente, quindi c'erano, poi rientrano le regolamentazioni dei stati individuali dove si voleva approcciare il problema e quindi è diventato molto... Cioè, si era partiti come spacchiamo tutto, entriamo e facciamo sta mega release, è diventato un... Andiamo a parlare con questo stato, quell'altro stato, andiamo a parlare con l'associazione di consumatori per tranquillizzare un po' tutti. E quindi poi è andata, diciamo, alle lunghe e non ha mai visto la luce perché c'è stata talmente tanta opposizione all'esistenza dallo status quo, da quello che c'era, che il progetto è poi stato smantellato e in realtà è stato forcato da Aptos, che è il mio attuale datore di lavoro. Ancora una domanda qui, giuro che mi taccio andare. Aptos, cioè nel senso, ci racconti questo magico mondo del Web3 dove tutti quelli che facevano cyber hanno incominciato, sono triggerati, non tutti, però tanti sono triggerati, hanno incominciato a studiare come pazzi e adesso pare l'eldorado assoluto se vuoi fare cyber. Qual è lo status? Cosa fate in Aptos e che succederà secondo te? Allora, comincio a parlare di Web3 in generale che è un termine coniato diciamo relativamente nuovo ma è quello che Ethereum è la prima piattaforma di Web3. Web3 significa che ho una blockchain che è un sistema di... alla fine è un database distribuito alla fine è un database distribuito su tanti nodi che necessariamente non si fidano l'un l'altro e che ti permette di... tramite smart contract di eseguire operazioni su questo storage. Quindi immaginate un AWS Lambda che è distribuito, aperto, pubblico ovviamente è tutto pubblico i dati sono... questo database è pubblico, visibile a tutti e quindi questo è Web3. Perché a livello cyber è appetibile? Perché potete immaginare che essendo quel database distribuito... Torniamo al Web2. Qual è la cosa peggiore che può scrivere un database? Che lo stato di quel database, il continuo di quel database viene o trafugato, vabbè lasciamo perdere il trafugato perché è pubblico, però che venga modificato. Cioè se io entro nella tua banca nel database dove hai il tuo account e scrivo da 0 a 1, io ti ho rubato un euro. I smart contract permettono di entrare nella database della tua banca, banca, Ethereum, account e trasformarlo da quello 0 a 1. Quindi potete immaginare che un exploit dove in un codice esorgente di centinaia di righe ti permette di rubare i soldi di tutti è molto più appetibile per un criminale o per un malintenzionato qualsiasi di sfruttare un exploit singolo a rubare milioni di euro quando invece per fare la stessa cosa nel web 2 devo trovare un exploit per lo software giusto che ti targettizza un determinato numero di persone che poi mi permettono di capire come farlo, capire come fare cash out. Cioè ci sono tante di quelle ostacoli, insomma ostacoli, step da fare da andare da exploit a soldi e blockchain no. Blockchain è uno step. Cioè tu vai, mandi una transazione o comunque dipende ovviamente dall'exploit, dalla vulnerabilità, mandi una transazione e la prossima cosa che succede è che tu sei direttamente, tu da qua lanci un exploit, dall'altra parte c'hai bitcoin, etm che ti stampa i soldi. e non c'è cosa più veloce di questa. Quindi ovviamente poi essendo tecnologia nuova, smart contract, solidity, poi ce ne sono tantissime altre, create da zero, cioè non esisteva questo paradigma tecnologico fino a qualche anno fa, i tool, i low asp, non c'è nulla, quello che abbiamo imparato nel web 2 negli ultimi vent'anni, nel web 3 non c'è. e quindi a parte quello, poi comunque è una tecnologia nuova, quindi anche lo sviluppatore non è formato, tralasciando la sigla, non è formato nemmeno a livello tecnologico per capire tutto quello che c'è dietro perché comunque sono sistemi molto complessi a capirli veramente bene tutti. E tu come ti sei preparato? Mi sono preparato, come ho detto, io non accetto mai lavori che so come fare. In zona di comfort è questa sconosciuta. Vabbè, io ho avuto l'esperienza in Libra e comunque è stato un pari da anni. Poi Aptos, come ho detto, è un fork ovviamente molto diverso, però a livello di design architetturale avevo già quel know-how che poi ovviamente entrando a livello così presto a Libra l'avevo visto nascere da zero, quindi ho collaborato a definire tutto il design architetturale, quindi diciamo me lo sono già trovato o studiato. Quello che diciamo il delta da quando diciamo ho lasciato meta ad oggi è Move che è il linguaggio di smart contract che viene utilizzato da Aptos e altre blockchain che è diverso da Soliti ma Move sempre che viene da Libra dal stesso team diciamo vuole imparare dagli errori progettuali di design di Solidity per fornire una serie di tool di sviluppo incluso il linguaggio che è molto più conservativo a livello di security come approccio è molto simile a Rust dove tu scrivi il codice e poi lo compili e il compilatore nel momento in cui sbagli una virgola ti dice stai facendo un errore Move è molto simile quindi diciamo ricordate è stato creato per la piattaforma di pagamenti globale quindi è stato creato con security top requirement e quindi è nato così la speranza quello che ovviamente pensiamo in Aptos è che con un linguaggio più sicuro a livello di design si riesce ad ottenere quella stabilità sicura più o meno avere più confidenza alla fine la security non esiste giusto? è sempre un compromesso però avere un po' più confidenza che questo smart contract che poi viene eseguito da verrà eseguito da milioni di persone è scritto in maniera decente almeno e che segue delle specifiche molto strette del linguaggio in proporzione questa è una curiosità dato un numero di sviluppatori quanta gente che fa sicurezza? guarda allora io ovviamente prima di entrare in Aptos ho fatto colloquio in giro ho parlato con tantissime aziende web3 direi che pochissime quindi è demandato la tecnologia e la sicurezza perché è demandato fuori se ogni 100 sviluppatori ci sono 3 che fanno 4 che fanno cyber e quindi vuol dire che tu in realtà l'onere non è più interno esterno esattamente perché col web3 siamo tornati al web2 degli anni 90 dove c'erano i consulenti che facevano il pentesso l'odio del codice dove internamente la gente non ha idea non è nemmeno il tool per testare perché anche non esistono tool forse solidity ethereum ovviamente esiste da un po' quindi ci sono tanti tool ma solidity è come il C puoi creare mille tool ma alla fine il core è debole e quindi trovare sempre l'ago nel pagliaio è difficile come nel C e quindi perciò la nascita di Move è un altro stile di programmazione e poi sì gente a parte nel web3 c'è poca il mercato è molto piccolo ci sono poche decine di migliaia di sviluppatori al mondo che sembra un numero grande ma non lo è e quindi ovviamente a livello di security c'è neanche me per le persone di security che fanno questo che stanno nell'ambiente ce ne sono pochissime e la maggior parte sono in aziende di consulenza la stragrande maggioranza delle persone che fanno security hanno consulenza ci sono alcune aziende che hanno team interni ma le potrei contare ok quello è molto cioè tu reputi in quanto tempo ci sarà un'evoluzione come quella che ha avuto il web2 cioè nella logica del web3 che verrà internalizzato il tutto e si alza secondo me è un argomento abbastanza interessante perché non so se il web3 si evolverà nello stesso modo ci saranno degli overlap sicuramente però penso che comunque il web3 permette di essere molto più agili nel sviluppare perché immagina tu hai un database che gratis pagato praticamente da transazioni pubblico quindi uno sviluppatore singolo può creare un prodotto perché io sono un po' di front-end faccio magari un back-end minimo o non esistente adesso con javascript wasm si può fare di tutto con un database pubblico che viene offerto che ti viene offerto quindi uno sviluppatore singolo può creare la prossima google in teoria ovviamente tra il dire e il fare però in teoria è possibile cosa che non puoi fare con il web2 perché comunque ha bisogno di un'infrastruttura che poi vai a amazon microsoft o sotto la tua scrivania qualcuno quella roba la deve pagare invece il web3 è mantenuta è sostenuta dagli utenti quindi è molto più è una tecnologia diciamo molto più democratica e qual è la tua challenge in pratica più grande ovviamente cioè la challenge è tenere in sicurezza però praticamente qual è quella su cui ti scontri di più ogni giorno e dici questa è quella lì che mi farà venire il mal di testa ma sicuramente non lo voglio chiamare così però uso questi termini skill shortage cioè come ho detto prima i sviluppatori non ce ne sono tanti persone che fanno security non ce ne sono tante quindi il problema che ho diciamo giornalmente maggiore è capire come abilitare i sviluppatori che poi entreranno nell'ecosistema di aptos ovviamente è il mio focus a creare applicazioni sicure cioè sicure che non richiedono necessariamente un audit di un'azienda terza che comunque indipendentemente dello sviluppatore riesce a creare un minimo di confidenza con i tool gli strumenti i contenuti training cioè sono focalizzato su quello è quella la challenge principale creare questi tool contenuti training per sviluppatori per poi non dover richiedere necessariamente l'audit che poi ovviamente essendo poche persone in security essendo tutti consulenti questi audit costano un casino perché non lo sa nessuno giusto perché sono 50 persone al mondo che stanno fare l'audit di Move perché Move è nato un anno fa e quindi ovviamente il mercato essendo molto piccolo i costi si alzano e per noi che il nostro scopo è avere il più numero di persone possibili è un ostacolo enorme perché impedisce allo sviluppatore singolo di creare la prossima Google di crearla perché deve pagare tot mila euro per un audit ogni anno allora ti auguriamo buona fortuna più che altro per gli investitori di Aptos che non sono pochi i soldi che ha preso quindi speriamo che tu ci riesca qual è il background dei tuoi sogni di una persona che deve iniziare a lavorare con te cioè cosa deve avere guarda ovviamente deve avere la mentalità della persona che fa security che non è comune anzi è molto non comune se tu prendi uno sviluppatore medio anzi uno sviluppatore esperto di qualche tecnologia non è detto che riesce a pensare altrett che arriva da qua a destra a sinistra è proprio un'altra mentalità perché lo sviluppatore pensa per costruire invece la persona di sicurezza pensa per distruggere all'inizio perché ovviamente devi trovare dove e come rompere le cose quindi è uno schema mentale che gli sviluppatori in genere non hanno si può imparare però di default non c'è quindi una persona che diciamo entra nel mio team oggi sicuramente deve avere un attimo quell'attitude di capire dove è il problema però deve anche riuscire a capire come risolverlo come ho detto prima risolverlo alla fine è sempre un team interno di sicurezza quindi deve essere individuato il problema risolverlo con tutti i caveat e le limitazioni pensando nella blockchain pubblico cosa posso fare dove posso farlo i nodi sono non trust cioè c'è tutto uno stack totalmente diverso è più largo del web 2 e poi bisogna capire come prevenire quel problema cioè avere la capacità mentale di studiare una soluzione che non solo ti trova il problema te lo risolve in quel momento ma te lo risolve da quel momento in poi e quindi non è non è banale ok allora purtroppo dobbiamo chiudere grazie mille Gerardo grazie a voi tentiamo di rifarlo perché io ho 8000 domande da fare più passa il tempo più si accumulano quindi cioè anche perché dobbiamo andare all'Oromac perché sennò siamo venuti fino a qua e poi non andiamo alla conferenza è brutto che è arrivato dall'America apposta no grazie mille grazie mille ci vediamo alla prossima puntata e ciao grazie grazie ciao ciao grazie raga grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie a voi